Andrea Vatovani, lei è un esponente di un'architettura d'approccio glocal. Com'è possibile trovare una sintesi fra un approccio, come dire, globale e locale in architettura? Diciamo che al giorno d'oggi, secondo me, bisogna muoversi a livello internazionale, perché è quello che è un po' necessario per migliorare le nostre città, per migliorare il nostro futuro. Ma non bisogna mai, mai dimenticare le tradizioni locali, la cultura che abbiamo e dove si agisce. Se opero in un altro continente, in un altro paese, è molto importante, secondo me, cercare di capire come funziona quel paese, cercare di risolvere i problemi di quel paese, non portare delle globalizzazioni che magari se non rispettino le tradizioni che ci sono in quel paese. Quindi immagino che lo studio sarà ancora più approfondito. In che senso lo studio? Nel senso lo studio di quel territorio? Certo, naturalmente per me qualsiasi progetto parte proprio da una ricerca approfondita da capire, poi lo vedremo anche nella conferenza poi, proprio da una ricerca storica, da una ricerca del territorio, da una ricerca della città, e poi viene sintetizzato in un progetto che può sembrare al momento magari molto futuristico, molto innovativo, però al tempo stesso in realtà è una ricerca frutto di molte ore di lavoro proprio sul territorio. Lei parla di una globalizzazione programmata. Che significa? Allora, la globalizzazione programmata per me è un termine che ho coniato un po' per me. In realtà la globalizzazione è un termine che è stato coniato da Bauman, ed era appunto un discorso di spostare, cambiare la globalizzazione e adattarla a un contesto locale. Io mi collego un po' a questo concetto quasi filosofico e lo programmo, nel senso che secondo me l'architettura, le costruzioni sono comunque un ambito che va programmato, e quindi per me è programmato, non è inventato al momento, ma anche attraverso questa ricerca viene programmato, viene pensato, viene sviluppato poi per il progetto. Puoi farci qualche esempio di progetti suoi? Per esempio uno dei progetti più pubblicati nostri è ROTS, che è praticamente una torre a spirale, a doppia spirale, in realtà sono tre spirali, fatto per Shenzhen, che ha svegliato molto interesse a livello internazionale, ed è pensato quasi una critica. Sono degli atelier dove praticamente ci si può muovere ai piani superiori, perché sul tetto ci si può, è come una scala gigante praticamente, ed è anche una critica al tempo stesso, al fatto che adesso appunto con le grandi marche internazionali di cibo, di cibo spazzatura, praticamente i cinesi per la prima volta sono ingrassati, quindi voleva sviluppare anche questo movimento, salire, cioè ci sono dietro molte, molte cose che poi magari vedremo in una conferenza. Senta, lei insegna anche all'università, no? A Graz. Che cosa cerca di trasmettere ai suoi allievi? Allora, secondo me innanzitutto molta positività, molto amore per il lavoro che facciamo, perché non si può farlo altrimenti. Allora, l'architettura è un lavoro che va fatto con amore, non deve essere mera registrazione del passato, deve essere proiezione del futuro, bisogna andare avanti, bisogna cercare di risolvere i problemi, non crearli. Queste sono le cose più importanti, e soprattutto cerco di staccarmi da un insegnamento di tipo accademico, a volte insegno nei caffè, cerco di far collegare i ricordi dei miei studenti a cose positive, a cose belle, e farli amare questo lavoro soprattutto. A New York che cosa ha fatto? A New York abbiamo fatto una proposta che è un piling scraper, che è molto particolare perché è uno studio, lo chiamiamo piling scraper, perché viene dall'inglese to pile, cioè sovrapporre in diversi strati, e abbiamo praticamente fatto una ricerca di tutto quello che si trova nella città orizzontalmente, e l'abbiamo veramente creato verticalmente, e tutto il cuore, il core di questo palazzo praticamente è uno spazio pubblico in cui ci si può muovere, salire e spostarsi, perché la nostra critica era perché costruire in verticale se poi posso solo andare con l'ascensore al piano X, uscire e entrare nell'ufficio, non serve a niente. Infatti adesso c'è questa corsa un po' al verticale, ci si spinge sempre più in alto, si tornerà verso il basso secondo me? Secondo me è necessario, visto che si proietta anche una sovrappopolazione del mondo per andare verso l'alto, ma per una questione di preservare il paesaggio, preservare la natura, solo per questo motivo qua lo ritengo giusto. Luca Nardone, che cos'è Udine 3D Forum? È un forum che abbiamo pensato come confartigianato insieme a Segno Progetto, un'azienda del nostro territorio, per promuovere, far conoscere e anche incrementare la cultura dell'uso delle tecnologie 3D, quindi tutto quello che è legato al CAD, al disegno grafico, al computer, all'animazione, al design, insomma tutto quello che è il nuovo design che viene fatto non più su carta e penna, ma viene fatto utilizzando computer, quindi software dedicati ormai solo e esclusivamente al 3D e quindi si parte già con una progettazione diversa pensata nelle tre dimensioni, non più solo come prospetti, piante e rilievi. In quanti incontri si articolerà? Il forum si articola in due giornate, che sono strutturate come un workshop pubblico della mattina del venerdì 8 novembre, che sarà dedicato un po' a tracciare alcune prospettive del futuro, di quello che sarà il futuro del 3D, ma il futuro un po' della tecnologia. Infatti avremo, anche grazie alla collaborazione con Friuli di Future Forum, Victor Meyer Schoenberger, che ci parlerà di Big Data, cerchiamo di avere qualcuno di Arduino, cerchiamo un po' di capire dove stanno andando le tecnologie moderne, anche per dare ai giovani un'idea del fatto che nella nostra regione si può, se si vuole, lavorare nella tecnologia. Ci sono poi una serie di workshop tecnici molto specialistici, con tutti i software principali che esistono nel settore, che vengono fatti sia il venerdì pomeriggio che il sabato. In particolare poi mi piace promuovere due cose. La prima è che il sabato mattina regaliamo dei workshop dedicati alle scuole, quindi puntati a livello introduttivo per gli studenti delle scuole superiori e universitari che vogliono avvicinarsi a questo mondo. E l'altra cosa che mi sembra importante è che la banca di Cividale ha deciso anche quest'anno di contribuire al successo del workshop offrendo 100 borse di studio per giovani under 30 che vogliono partecipare ai workshop tecnici per sviluppare le loro capacità e le loro competenze. In maniera estremamente sintetica, oggi ci occupiamo di architettura. Gli altri argomenti? Gli altri argomenti sono il design, l'animazione e la grafica tridimensionale soprattutto, quindi tutto veramente quello che c'è ormai, anche gli effetti speciali dei cartoni animati. Una cosa che mi piace moltissimo è che ci sarà di nuovo la Rainbow Academy, che è questa casa produttrice di cartoni animati romana, che come l'anno scorso permetterà ai giovani di dialogare, di presentare i propri showreel, le proprie presentazioni e animazioni per capire cosa sta succedendo, come anche dargli dei suggerimenti, fargli crescere un pochino professionalmente.